Ciao a tutti. Quando vogliamo realizzare dei contenuti su Wikipedia o Wikidata, la prima domanda che ci facciamo è che cosa sia già presente, per evitare di andare a creare contenuti già pubblicati, e successivamente andare a vedere il loro grado di utilizzo. Ovviamente queste analisi sono di interesse sia prima di contribuire ai progetti di Wikimedia, ma anche per estrarre dati utili per studi oppure ricerche. Per quello che riguarda la prima domanda, una cosa che potrebbe essere utile è avere una lista di elementi già presenti, come ad esempio nel caso in cui volessimo realizzare dei contenuti sulle architetture militari in una certa regione, ad esempio l'Abruzzo, una lista tipo questa che è già presente, in cui per ogni tipologia di architettura, quindi castelli, fortezzi, torre, noi potremmo visualizzare un'immagine dell'elemento, qual è la pagina associata, una descrizione, dove si trova e qualche informazione aggiuntiva. Allora, questo è possibile tramite un elemento che è presente su Wikipedia e che è il template Wikidata List. Wikidata List è un template che sostanzialmente si compone di due parti. Una prima parte, che è una ricerca degli oggetti da visualizzare, dove andiamo a specificare che cosa voglio visualizzare. In questo caso vado a prendere l'elemento Wikidata Q39715, e cioè un faro, e in che ambito. In questo caso mi limito all'elemento Q55, cioè i Paesi Bassi. Dopodiché c'è una sezione che dice come voglio visualizzare gli elementi che estrago e quindi in che modo raggrupparli, quali elementi visualizzare e in che modo. Allora, vediamo subito come utilizzarlo. Quindi torniamo sul nostro browser e andiamo a prendere questo template. L'esempio che ho riportato è esattamente quello che troviamo nella pagina di descrizione del template. Lo copiamo, lo andiamo a mettere nella nostra sandbox. Per sicurezza andiamo a verificare che effettivamente quello che sto chiedendo è di visualizzare tutti gli elementi che sono dei fari. Esatto. Vedete? E andiamo anche a limitare questa ricerca in un ambito preciso, che è quello che dicevo, cioè il Q55, che sono i Paesi Bassi. Bene. Allora, salviamo questo template. Non importa quello che c'è dopo la prima sezione tra parentesi graffe e la fine della lista, perché tutto quello che c'è qui in mezzo sarà riscritto dalla ricerca. Lo pubblichiamo e andiamo a selezionare il collegamento aggiorna manualmente. Dopo un po' la generazione della lista sarà terminata e quindi posso ritornare nella mia sandbox e troverò un elenco organizzato per città olandesi con tutti i fari che sono presenti su Wikidata e Wikipedia. Va bene. Adesso cerchiamo di rifare la stessa cosa, cambiando però gli oggetti che voglio visualizzare. Quindi questa volta io voglio visualizzare quelli che sono dei castelli. Quindi cerco castello e l'identificativo su Wikidata è questo numero qui, che quindi vado a mettere al posto di quello del faro, copia e incolla. E come ambito questa volta voglio cercarlo in Abruzzo e quindi voglio vedere una lista di oggetti che sono castelli e che sono in Abruzzo. Quindi compiamo questo elemento, lo andiamo a sostituire a quello che era l'Olanda, salvo e faccio aggiornare questa lista con i nuovi parametri. Anche qui dopo un po' di tempo si presenterà il risultato di questa ricerca. Ecco, la ricerca è stata completata. Andiamo a vedere il risultato e vedete abbiamo questa volta una lista organizzata per città della regione e all'interno della lista per ciascuna città i vari elementi che ha trovato. Questo ovviamente può essere arricchito quanto si vuole. Basterà fare delle ricerche in linguaggio Sparkle più complesse. Su Wikidata troviamo anche un bel tutorial che vi insegna passo passo come andare a raffinare via via gli elementi che andate a inserire nella vostra vista.